Abbiamo chiesto all'assessore innanzitutto quali erano le indicazioni che arrivavano dal governo e se erano state rispettate e le troviamo all'interno del documento. C'è da evidenziare che i soldi che oggi arrivano sono tanti, arrivano dal livello nazionale per riorganizzare la rete Covid sul nostro territorio. Le criticità che da parte nostra sono emerse e che non ci sia un sovrapporsi di quello che sono le cure all'interno delle realtà come l'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti. La richiesta maggiore che è arrivata non soltanto da parte nostra ma da parte di tutte quelle che sono le opposizioni è capire come si sovrappone a quella che è l'organizzazione della rete ospedaliera. Un investimento importante, stiamo parlando di circa 40 milioni di euro ma abbiamo visto quanto il governo a livello nazionale in questo periodo si è speso, quanti soldi sono stati investiti, oggi più che mai la possibilità di dare una situazione completamente nuova, un volto completamente nuovo alla sanità abruzzese. Questo è quello che abbiamo cercato di evidenziare e in funzione di questo abbiamo chiesto di poter discutere a stretto giro e nel più breve tempo possibile il piano sanitario regionale e quindi tutto quello che ne compone in funzione della sovrapposizione di quella che è la scelta sulla rete ospedaliera.